ciao a tutti buongiorno buon lunedì lunedì 23 ottobre ore 12 19 ora di pranzo è ora di pranzo e questa mattina e mi sono svegliato senza voglia di fare di leggere notizie talmente sono inquietanti le notizie tanto che ho chiamato la diretta alta tensione alta tensione perché e dalle prime pagine dei giornali per quello che sta succedendo in iran c'è in israele con l'intervento dell'iran queste minacce dell'iran centrati in un momento veramente di alta tensione con gli stati uniti pronti a intervenire a usare le armi pronti a a mettere in campo il loro esercito con l'iran che minaccia israele che continua a fare quello che sta facendo e hamas pure quindi siamo purtroppo in in un momento viviamo in un momento molto molto duro ciao stefano ciao luigi ciao dimitri ciao luca stefi l'altra tensione però c'è anche in italia per il fatto della meloni che sta creando tensione con tra mediaset la meloni tra la meloni e gli interni tra gli oppositori della meloni e la meloni stessa insomma c'è un'altra tensione generale no data un po da tutto l'europa che in alta tensione e per il discorso dei migranti in tutta e tutta l'europa c'è casino cioè insomma amici una vera alta tensione detto questo vi do il buongiorno a tutti ciao e fiorenza ciao ligliana mariana lino antonella massimo jenny jeg paolina la ludmilla ciao cara ludmilla abbiamo l'angela e non si sente solo parlare di zeleschi e putin un po meno di loro perché sono entrati argomenti più interessanti evidentemente i media hanno detto che l'ucraina e quello che succede in ucraina e non è più e non è più interesse interesse nazional popolare e vi chiederei di condividere primo visto un video dove la meloni circola voce che vuole dimettersi non è vero alta tensione stefi bella dance è alta tensione non penso che voglia dimettersi però il dubbio è lecito anche se a me è arrivato indiscrezione qualche giorno fa qualche giorno fa dalle dai miei ingegneri dell'ait che sanno sanno tutto che loro sanno tutto vedo le notizie prime tutto dove hanno detto la meloni durerà poco sembra che si voglia che che verrà fatto saltare il governo questo è quello che mi è arrivato questa notizia qualche giorno fa alla quale non ho dato sinceramente molto peso ma vedendo quello che sta succedendo adesso io inizio a avere dei dubbi e continuo a dire che ogni dubbio è più che lecito però insieme andiamo a vedere che dicono i giornali no andiamo a vedere che dicono i giornali insieme partendo dalle partendo da proprio uno dei giornali che parla di alta tensione ovvero il corriere della sera israele avverte l'iran e avverte l'iran in che senso perché l'america rafforza la sua presenza militare altri camion d'aiuti a gaza mentre terran e rischi di una crisi con terran c'è il rischio di una crisi incontrollabile perché la replica se attacchi vi colpi se attaccati vi colpiremo nella striscia e 19 sono gli italiani ma il problema minore sono i 19 italiani il problema sono i tanti e civili che stanno morendo e sotto l'attacco delle due parti veramente triste e abbiamo qua nell'alta tensione invece riguardando l'alta tensione a livello nazionale la premier in video su di noi cattiveri e meloni non va alla festa di fratelli d'italia sono umana dice dopo la separazione di giambruno ieri giorgia meloni ha disertato la kermesse di fratelli d'italia ha preferito restare accanto alla figlia ginevra e concordo che lei ha fatto bene per le manifestazioni si è affidata a un video messaggio mi dispiace non essere lì con voi ma anche io sono un essere umano e se qualcuno possa chiedere comprensione sono i militanti di fratelli d'italia poi ha concluso con scusatemi quindi attenzione mai vista una meloni tra parentesi così debole però è la meloni mamma quindi io in questo caso da papà da papà do pieno sostegno giorgia meloni e resti resti salda sulle supposizioni fa bene a star vicino alla bimba sono cose che non quando c'è una separazione in atto una divisione tra un marito e una moglie o un compagno e una compagna con dei bimbi di mezzo non è facile amici non è assolutamente facile quindi vicinanza a giorgia meloni in questo caso non sto parlando a livello politico ma sto parlando a livello umano perché secondo me è una cosa che dimentichiamo troppe volte è la parte umana quella che dovrebbe essere sempre a centro dei nostri pensieri della nostra attenzione la parte umana dell'essere umano bene molte volte parliamo solo di politica e ci dimentichiamo che siamo tutti esseri umani quindi in questo caso concordo con giorgio meloni intanto carlo clemente mi dice a castellaneta 27 gradi c'è già che c'è caldo giù nella zona di taranto e c'è soleggiato grazie carlo intanto ti vede già un successo che riesca a vederti in diretta perché normalmente le notifiche non ti arrivano più cambiando quotidiano vabbè parliamo della juve del milan repubblica vedete anche repubblica parla di alta tensione perché la minaccia dell'iran si parla di venti di guerra il papa chiama biden evitare l'escalation cerchiamo una via di pace finalmente qualcuno che parla di pace e è veramente triste la situazione è veramente triste perché teheran avverte israele gli usa la situazione può diventare incontrollabile pentagono il pentagono rafforza la presenza militare continuano i negoziati e quattarini sugli ostaggi gaza allo stremo nuovi aiuti casa bianca e a colloquio con gli alleati europei è veramente triste abbiamo centro pagina anche qua l'alta tensione interna invece la premier diserta la kermess di fratelli d'italia e resta a casa con la figlia me noni sono un essere umano anch'io e donzelli su mediaset nessun riguardo quindi si parla di mediaset nessun riguardo su mediaset cambiano anche i rapporti tra la maggioranza e mediaset perché sembra che ci sia una vera e propria rottura e abbiamo qua un richiamo mattarella sanità mattarella stoppa le sanzioni per troppo lavoro agli eroi del covid e c'è voluto un intervento di mattarella per fermare le multe arrivate ai tre primari per riposi non concessi a personale siamo veramente in una situazione drammatica anche a livello sanitario la stampa e anche la stampa vedete riconferma l'alta tensione le minacce di teheran iran situazione fuori controllo se continuano i raid attaccheremo israele telabive vi colpiremo cioè amici qua è una minaccia dietro l'altra il problema che non sono solo minacce e intanto mi dicono c'è che antonio gemma che se la prende con col papa e perché si ricorda di parlare di pace non ripeto quello che hai detto però concordo in certe cose e ha parlato il papa francesco no ha parlato troppo poco di pace essendo lui gesuita dovrebbe parlare prima cosa di pace ma se ne è dimenticato non si è schierato dalla parte della pace ma ha evitato di parlarne in modo netto ed è veramente triste amici intanto mi dicono stefi belledens dice folla totale anche nella sanità una folia totale alta tensione anche nella sanità italiana diciamo che il mio titolo alta tensione è abbastanza attuale guardate anche libero no l'america avvisa tutti con un titolone in rosso libero è molto pesante in questa questa prima pagina perché è pronti a sparare il duetto pro palestina fazio e zacchi a telegaza il bravo presentatore passa da giambruno da giambruno a striscia la notizia alla striscia di gaza l'attivista israele deve fermarsi ma non chiede scusa per le sue uscite sulle stragi io quello dico io quello dico io mi meraviglio io ve lo chiedo come cortesia a me di zacchi non me ne frega niente smettete di far parlare in televisione gente come zacchi gente che è venuta in italia se ne approfittata è stata liberata dal governo italiano non ha chiesto neanche grazie non l'ha detto neanche grazie non è venuta laureare qui fa adesso e adesso parla di terrorismo quei terroristi che attaccano anche l'europa e vorrei ricordare che l'italia è in europa ok non che ne sia felice ma in europa effettivamente e zacchi e non dice nulla di questi attentati di questi terroristi quindi con tutto rispetto io non condivido nessuna delle parti quando difendono gente che fa del male agli altri come non condivido e non ho mai condiviso quello che è stato fatto nei confronti dei palestinesi che sono stati segregati e incarcerati in questi tanti anni però non condividono anche gli attacchi di hamas cioè amici qua e bisogna semplicemente dire parliamo di pace non andiamo contro nessuno cazzo parliamo di pace che c'è molta differenza laurea in che modo laureare in che modo maurizio immobili maurizio immobili parlando di zacchi laurea in che modo stendiamo un velo pietoso sulle laurea di zacchi e vabbè e quindi al centro anche qua il anche libero ovviamente non può non parlare di questa uscita di giorgia meloni anzi questa non partecipazione all'evento di fratelli d'italia la kermesse scusatemi sono umana in un video di giorgia alla festa di fratelli d'italia io sono giorgia e per una volta scusatemi sono un essere umano io in questo caso do pieno sostegno totale alla mamma alla mamma attenzione e non vorrei che gli haters iniziassero a dire ecco sei per la meloni alla mamma giorgia meloni lo ripeto per lo ripeto per quelli che poco intelligenti che amano fare polemica alla mamma giorgia meloni ha fatto bene a star con la figlia perché prima io ve lo dico i figli vengono prima di tutto di tutto non c'è nulla davanti ai figli io lo dico da padre non c'è nulla davanti ai figli giorgia meloni ha fatto sol bene a non presentarsi perché in certi momenti le madri devono fare le madri e i padri i padri e i figli sono la cosa più importante tutto il resto può marcire ma prima vengono i figli scusate se lo dico così nettamente quindi in questo caso do ragione alla mamma alla mamma giorgia meloni poi fango di report sul cavaliere gli azzurri assalto alle urne aperte su conti politica io mi meraviglio che report e report e continui a parlare cioè berusconi non c'è più è morto non se n'è andato e tutti lo sanno ovviamente e report continua ad attaccare berusconi ma lasciatelo lasciatelo in pace che non c'è più non c'è più poi che sia in paradiso che sia l'inferno lo saprà solo lui lo saprà il nostro signore gesù cristo ma e lasciamo stare berusconi non dico che se non non so dove sarà ma lasciatelo in pace poi la stampa le minacce di teranne il giornale vedete il giornale e anche il giornale il giornale invece parla delle dell'alta tensione interna perché report perseguita berusconi guardate anche da morto e a urna aperte veramente triste report poi rivoluzione fisco qua cambiamo argomento tasse e multe cambia tutto e alta tensione anche questo per oggi in consiglio dei ministri le modifiche al sistema tributario sanzioni più leggere scadenze cartelle certe il certe che mi preoccupa tanto andremo a capire di più magari andando a fare una diretta dedicata se vi interessa ne potremo parlare insieme e proprio di questo fatto delle della riforma della rivoluzione del fisco assolutamente anche al centro abbiamo la premier contro gli attacchi personali c'è una sorta di statistica e sono umane l'italia sta con la meloni giorgia sceglie la figlia e non va alla festa di fratelli d'italia la rete è con lei e vedete la rete assolutamente è con lei e questo è una cosa molto molto positiva perché fa capire che prima guardiamo l'umanità poi il resto abbiamo il fatto quotidiano e il dopo gian bruno e meloni sotto botta fratelli d'italia avvisa basta riguardi per mediaset la premier da buca ai suoi minaccia non è lotto nel fango e una premier in questo caso in crisi non come premier ma per le per la situazione personale e familiare e ripeto stiamo con la meloni stiamo con la meloni per questo fatto come mamma stiamo con la meloni la verità la verità mattarella salva questa è una cosa strana perché le due pesi due misure dopo aver spaccato il paese e mattarella salva il medico eroe matace sui sui dannati del covid il cui rinale interviene ferma l'assurda multa ai dottori che fecero troppi straordinari in pandemia applausi però con quello che curavano i malati malgrado i protocolli di speranza e coi non vaccinati è stato meno solerte quindi presidente mattarella e due pesi due misure non dovrebbe applicarli le chiediamo cortesemente di intervenire anche su quei medici sospesi e sospesi e anche tutti quei quei tra virgolette novas che non decisero di vaccinarsi come scelta personale e multati quindi chiediamo un intervento tutti di mattarella per andare a risolvere anche quella problematica e anche qua la verità ricorda quello che è successo quindi sono umana la meloni diserta la festa dei fratelli d'italia in seguito all'ottura con giambruno e al viaggio in egitto a tel aviv la premier manda un video messaggio per il raduno del primo anno di governo a voi chiedo comprensione in serata colloquio con i grandi di gaza e chi c'è ancora il tempo il tempo continueremo a volare alto italia vincente cambia completamente argomento il tempo quindi una una positiva una messaggio assolutamente positivo perché la festa dei fratelli d'italia meloni rivendica i traguardi del primo anno di governo questo lo fa tramite il video messaggio la premier replica gli attacchi gli altri rotolano nel fango noi avanti con sorriso donzelli ripercorre l'ascesa siamo sempre stati coerenti e questo col tempo ha pagato al centro abbiamo san giuliano richiamo un tema che tratto che sto trattando io in questi giorni san giuliano crocefisso della casa per aver ridotto i fondi e ai fondi al cinema e per carità guai a chi tocca il reddito di cine cittadinanza è un tema che mi interessa molto io vengo dal mondo del cinema è un tema assolutamente interessante cambiamo pagina vediamo che dice il messaggero gaza alta tensione vedete gaza le minacce dell'iran gli ayatollah fermati i bombardamenti o interverremo israele pronti a colpire teheran mamma mia gli stati uniti schierano i patriot la telefonata tra i leader occidentali salvare gli ostaggi anche qua fratelli d'italia e anche qua medici stacanovisti interviene il colle alta tensione anche su domani domani alta tensione tra israele e iran vedete che meno male gli articoli sono interessanti sono due la situazione di alta tensione tra iran israele striscia di gaza amass e america qua e quant'altro la situazione della tensione attuale di giorgio meloni per una vicenda personale familiare con la con la dove è voluta rimanere con la bimba la tensione tra la maggioranza attuale e mediaset quindi dicono che non avranno più occhio di riguardo nei confronti dell'azienda mediaset e la tensione nella sanità e dove mattarelli è intervenuto ha salvato i medici stacanovisti ma se ne è fregato totalmente di quelli sospesi contro la loro volontà perché hanno semplicemente scelto di non sottomettersi a una cura sperimentale vabbè detto questo amici spero di avervi dato molto velocemente le informazioni necessarie per capire quale giornale leggere oggi se leggere un giornale che sia online che sia in acquistare in in edicola e spero di avervi dato indicazioni ci sono titoli interessanti in tutti abbastanza allineati l'uno con l'altro io a questo punto vi auguro un buon lunedì a tutti ci sentiremo più tardi perché purtroppo lo dico purtroppo ho due notizie e due notizie dal paragone punto it che sono veramente veramente inquietanti che ovviamente non posso dare adesso perché ho dei o dei ho i miei tempi e perché c'è ancora il giudice apostolico un'altra grande bufera sul giudice apostolico perché spuntato un documento pensate anti governo che crea una grandissima tensione nella magistratura ne parleremo ne parlaremo più tardi e poi ci sono altre cose incredibili tipo il flop delle auto elettriche ufficiale la volkswagen amici ha fatto una cosa che l'amorosa gay che dice game over alle auto elettriche ma lo spiegheremo più tardi e ci sono delle delle cose veramente tristi e quando perché è dove spiegano dove spiega spiegato vi spiegheremo perché ha bloccato le autopsie però più tardi più tardi nel pomeriggio e ore 19 ovviamente la super diretta con tutte le notizie che l'amorosa e quelle notizie che non vi vogliono dire ovviamente dire ma crede ancora nella magistratura mi dice marco e campanica io ti do una risposta in tempo orale chiudendo la diretta credo credete nella magistratura robbi giusti crede nella magistratura ogni dubbio è lecito ciao a tutti buona giornata più tardi